Non preoccuparti, sono a Bologna. Ciao mamma, come sai? Sono appena uscita dalla facoltà. E' da ieri sera che giro tra lavoro e studio. E ho giusto adesso un minuto libero. Visto che sono in piazza maggiore, ho pensato di fermarmi e chiamarmi. Ma no, si può fare gratuitamente. Non preoccuparti, sono a Bologna.